Ciao, io AniMobile. E io ho un altro operatore. Dove vai in vacanza? Eh, sto ancora decidendo perché devo capire dove il mio operatore ha copertura. Sai, non vorrei trovarmi fuori dal mondo. Per adesso ho visto che posso spostarmi fino a 100 km da casa. Sai, un tour. Che poi devo anche capire dove è la camera perché se fosse al piano terra avrei dei problemi. Che bella vacanza ti aspetta. Perché scusa, tu questi fattori non li consideri? No, con AniMobile ho copertura dovunque. Viaggio ovunque con i miei giga. Mi basta una valigia e degli amici. Beh, ciao! Ciao!